Benvenuti in questo affascinante casale Il casale circondato da un verde lussureggiante ed alberi d'alto fusto a due passi dalla via Boccea a Roma in una posizione esclusiva e tranquilla Sono Leonardo Raso, titolare della LR Immobiliare ed oggi vi accompagno in visita in questo immobile dal fascino esclusivo Il casale ha una superficie di circa 1000 metri quadri ed è circondato da un parco di 5000 metri quadri Attualmente è suddiviso in 4 diverse unità abitative tutte con ingresso indipendente e si sviluppa su 3 piani Il primo appartamento ha al piano terra un grande salone con camino fruibile come ampia zona di rappresentanza con tutto ciò che serve per organizzare i ricevimenti per curare i propri affari ed ospitare gli amici Inoltre sono presenti una sala da pranzo, una cucina e un servizio Raggiungiamo il secondo livello al piano primo dove sono presenti una suite con bagno in camera altre tre camere da letto patrimoniali ed ulteriori due bagni Al piano interrato invece è raggiungibile sempre con una scala interna e presenti una grandissima sala hobby dove poter passare piacevoli momenti giocando a ping pong o a biliardo o organizzare feste con gli amici oltre ad un'ampia di servizi e un box auto Il secondo appartamento ha un fascino tipico delle belle dimore degli anni 70 Questa casa infatti sembra essere rimasta cristallizzata all'eleganza e alla magnificenza di quel periodo come dimostrano le grandi colonne e gli alti soffitti del bellissimo salone anch'esso dotato di camino Allo stesso livello sono presenti la cucina abitabile una camera da letto o un bagno Al piano primo anche qui è presente una suite con servizio in camera altre tre camere matrimoniali e doppi servizi Al piano interrato si raggiunge una grande sala hobby anch'esso utilizzabile come sala per feste, cene ed ambiente per giocare oltre alla zona cantina è al box auto nella grande area garage Il terzo e quarto appartamento attualmente sono utilizzati come unica abitazione su due livelli Vi suggerisco quattro motivi per cui acquistare questo bellissimo immobile la posizione riservata ed esclusiva il grande parco circostante le numerose camere con le tante possibilità di utilizzo e la presenza di quattro box in una strada dove è impossibile parcheggiare Vi aspettiamo per venirla a vedere con la LR Immobiliare La tua casa in buone mani